Il drammatico eccesso di mortalità osservato nei mesi di marzo e aprile 2020 a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19 si è esaurito nel mese di maggio. Lo evidenzia il rapporto Istat-Istituto Superiore di Sanità spiegando che l'eccesso di mortalità è stato stimato confrontando a parità di periodo i dati del 2020 con la media dei decessi del quinquennio precedente. Ma non ovunque si hanno le stesse percentuali. Se si confronta la mortalità generale con quella da Covid-19 nelle province ad alta diffusione come la Lombardia, la mortalità legata al coronavirus contribuisce al 28% della mortalità generale. In particolare nei mesi di marzo e aprile il contributo dei decessi da Covid-19 è pari al 30% mentre scende al 16 nel mese di maggio. Nelle province a diffusione media i decessi legati alla pandemia sono pari al 10% mentre scendono al 3 nelle province a bassa diffusione, l'1% se si considera solo il mese di maggio. In particolare l'analisi della mortalità generale nei primi 5 mesi del 2020 porta a una stima di 36.445 morti in eccesso rispetto allo stesso periodo del 2015-2019.